Poi per aiutarsi Nell'analisi Per capire meglio in che situazione ci troviamo Io ogni tanto Ma non necessariamente Utilizzo un altro studio Che sono le bande di Bollinger Questo invece mi sembra che sia in inglese Quindi mettiamo Bollinger Benz Eccolo qua Aggiungi E lo mettiamo a 20 periodi E applica Eccoci qua Allora le bande di Bollinger ci danno un po' Idea della volatilità Che c'è sul titolo In genere sono cose che poi Alessio si imparano a vedere anche Senza diciamo gli studi Perché comunque ad occhio Ad esempio qui Ad occhio già si vedeva che c'era poca volatilità Perché comunque C'erano dei movimenti veramente molto piccoli Infatti la volatilità era quasi a zero E anche le bande di Bollinger come vedi Erano piuttosto strette Poi mano a mano Con il passare del tempo Le bande si sono allargate Sempre di più Fino al periodo di adesso Che ovviamente è un periodo Estremamente volatile Rispetto alla media Però Le bande di Bollinger Danno una mano Perché ti danno un'idea In base Diciamo al periodo Che stai prendendo in esame Di comprendere Se il mercato è in una fase Più rialzista Più ribassista In genere Quando il titolo sta Al di sotto Cioè quando il titolo Rompe e ribasso Le bande di Bollinger Si dice che parte Diciamo una fase Ribassista Quando invece lo rompe e rialzo Parte Diciamo una fase Rialzista Ora E' bello utilizzare Le bande di Bollinger Perché ti faccio un esempio Adesso Senza guardare l'ultima settimana In genere però Come vedi Il titolo tende un po' A rimbalzare Sulla media più alta Rimbalza su quella più alta E poi in genere Va sulla media 20 O addirittura Su quella inferiore Però Se rimbalza Sulla media alta Quindi significa Che siamo in una fase Rialzista E si va Ad appoggiare Sulla media 20 Ecco Quello può essere Un buon momento Ad esempio Per vendere delle put Perché Comunque sia Significa che In quel momento Nonostante la fase Si rialzista C'è una contrazione Nei prezzi E quindi Insomma Andare a vendere Delle put E' più conveniente Perché comunque Il prezzo Si è un po' Ridotto Guardandolo così Invece Prendendo ad esame Solamente gli ultimi giorni Possiamo dire Che in questo momento Anche se sarebbe bene Aspettare ancora qualche giorno Comunque in questo momento Diciamo che Sembra che Si sia un po' Interrotta La fase La fase Rialzista Adesso ha Diciamo Rimbalzato Sulla Sulla fascia Bassa E sembra che Possa andare a Riacchiappare La media A 20 Però Tendenzialmente Adesso Il mercato Ci dice che Potrebbe essere Più prudente Vendere delle call Piuttosto che delle put Perché comunque sia Non è Essendoci così tanta Volatilità Non è detto che Il mercato Per l'opunto Poi possa Riprendersi Oltre a questo Oltre a questo Alessio C'è anche a dire Una cosa Che se si vendono Delle call Ad esempio Su questi livelli qua Sopra i massimi Molto tranquille E il mercato Effettivamente Recupera Che cosa succede La volatilità La volatilità Tornerà a scendere No Perché comunque La volatilità Si alza Quando i mercati Crollano E quindi noi Possiamo guadagnare Fondamentalmente Anche dall'abbassamento Di volatilità Quindi anche se il titolo Inizierà a salire Noi comunque Guadagneremo Da due situazioni Dal tempo che passa Perché comunque Hanno una scadenza Dal decadimento temporale E Anche Dal Dalla volatilità Che si va A ridurre Quindi diciamo Che vendere call Può essere più conveniente Rispetto a vendere Cool Put Ovviamente Vendere call Però cosa comporta Che in genere Si prendono dei prezzi Un po' più bassi Perché comunque sia Sappiamo che Il mercato sale Per le scale Come abbiamo visto E scende per l'ascensore Quindi Chiaramente Quando si vendono Delle call Ci sono più probabilità Di portarsi a casa Il premio Perché comunque Bene o male Il titolo sale Un po' più lentamente Per l'ascensore Per l'ascensore Per l'ascensore Per l'ascensore Per l'ascensore